La Juventus batte la Roma e diventa campione d'inverno, ma per lo scudetto è una corsa a tre con l'Inter che ora attende rinforzi e una Lazio che è arrivata a dieci successi di fila. La Spal ultima in classifica non si arrende e aspetta rinforzi, Genoa e Brescia in difficoltà, rialzano la testa Sampdoria e Fiorentina. Come campione d'inverno dopo aver abbattuto ieri sera la Roma, ma una squadra quella di Sarri che dopo il 2-0 iniziale ha sofferto molto i giallorossi e anche in chiusura ha rischiato addirittura di essere raggiunta. Quindi non ci sono tanti punti positivi per questa Juventus, al di là della vittoria, rispetto alla partita con il Cagliari quando in molti avevano sottolineato come questa Juventus probabilmente era stata la migliore di questa stagione. Esatto, di fatto era quella la novità, ovvero quella della partita contro il Cagliari perché è una Juventus che per la prima volta in stagione nonostante un brutto primo tempo era riuscita a dilagare. Ieri siamo tornati un po' indietro, partiamo dal presupposto che alla Juventus sono bastati dieci minuti per vincere a Roma l'Olimpico contro la Roma di Fonseca perché di fatto la Juventus li ha segnati nei primi dieci minuti. I due gol che poi hanno contribuito e hanno dato la vittoria alla formazione di Sarri, però c'è sempre il fatto che la Juventus non riesce a chiuderle queste partite. È arrivato il rigore di Perotti nel secondo tempo e nel finale, come dicevi giustamente, la Roma ci ha provato e per poco non è riuscita a pareggiare. Resta comunque un super girone di andata della Juventus, tutte vittorie tra i pareggi è una sconfitta, nonostante non sia ancora la Juventus di Sarri, non sia ancora una Juventus brillante. Però con la Juventus non brillante sono arrivati tantissimi punti, 48 e il titolo di campioni d'inverno, quindi comunque la Juventus può continuare a sorridere. Considerazioni sempre frizzanti quelle di Gigi Cagni e ATMV Radio, sentiamo che cosa ha detto sulla Juventus. Vista la Juventus di questi primi mesi, se si parla di Champions ho qualche dubbio che possa fare qualcosa di meglio degli altri anni in Champions, ma speriamo non sia così. E' un dubbio di gioco Gigi? O un dubbio di allenatore? Un dubbio di giocatori? No, ieri nel secondo tempo, al di là di tutto, nel secondo tempo la Roma senza fare delle cose eccezionali mi ha messo difficoltà la Juventus. Secondo me, quello che sto vedendo ad oggi, per quello che ho visto, dà sempre troppe occasioni da gol all'avversario. Questa è la mia impressione generale fino ad oggi. È una squadra che dà molto all'avversario, poi quando partono e vanno in attacco sono pericolosissime. Una squadra la più forte che c'è sicuramente, è tra le più forti in Europa, questo è sicuro. Non mi convince fino alla fine perché dà sempre troppe occasioni all'avversario. Secondo me deve mettere a posto solo una cosa, la fase difensiva, che non c'è ancora riuscito. Adesso poi ha perso pure De Miral, adesso ci saranno De Litte, Borucci, Rugani. A questo punto è necessario recuperare Rugani, Gigi? No, Rugani non va da nessuna parte, ma non perché non è un bravo giocatore, non ha la personalità e le qualità per giocare a questi livelli. Perché lo si vede quando è in campo, non è un giocatore a cui puoi dare in mano la difesa. Già non lo è Bonucci, secondo me, come personalità e qualità nel comandarla la difesa. Poi è un grande giocatore. Lì c'era solo Chiellini che poteva e poi adesso dovrebbe entrare il portiere, perché il portiere deve fare qualcosa in più. Queste dunque le parole di Gigi Cagni a TNV Radio. Con Rugani ha detto, con tutto rispetto per il giocatore, non va da nessuna parte. Si riferiva naturalmente alla possibilità di ambire a grandissimi livelli. E comunque, se questa è la Juventus, dice Gigi Cagni, è difficile che possa fare qualcosa in più in Champions rispetto agli anni scorsi. D'accordo? Allora, su Rugani, sì, nel senso. Allora, la Juventus ha fatto delle scelte in estate, ha fatto la scelta di puntare su De Ligt. E anche di trattenere De Miral. Sappiamo che Rugani non è da questa stagione nella formazione della rosa bianco-nera. C'è già da diversi anni e in questi anni non è mai riuscito a imporsi, va bene? Come titolare, Bonucci e Chiellini sono difficili. Comunque, nonostante Chiellini abbia una certa età, calcestivamente parlando, è difficile scastrare e spostare quei due. Sarebbe difficile per qualsiasi giocatore, non soltanto per Rugani. Però, evidentemente, probabilmente neanche Rugani si aspettava un rendimento, un utilizzo così scarso, no? Dal punto di vista delle presenze, anche da titolare, non soltanto da subentrato. Quindi io credo che Rugani sia comunque un buon elemento, ma non per fare il titolare, non tale, non tanto da fare il titolare nella Juventus. Comunque, per sostituire un giocatore importante come Chiellini, a differenza di De Ligt. Quindi credo che, dopo questa stagione, l'avventura di Rugani possa ritenersi conclusa. Già, Lorenzo, ci ricordiamo, in estate c'erano state tante voci su una possibile partenza di Rugani, anche dopo l'acquisto di De Ligt. C'è anche De Miral. Ora, chiaramente, questi infortuni riportano un po' in ballo la situazione. Però, francamente, su Rugani io ho qualche dubbio che possa continuare la sua avventura in maglia bianconera. Sulla Juventus si dice sempre che comunque non riesca a giocare come vuole Sari. Io penso che sarà questa Juventus fino alla fine del campionato, cioè non ci saranno particolari cambiamenti dal punto di vista del gioco, della tattica. Credo che Sari si assesterà su questa idea, molto più concreta rispetto a quello che eravamo abituati vedendo l'allenatore, col Napoli e anche col Chelsea. La Champions, sì, probabilmente ci vorrebbe qualcosa in più. Però non penso che Sari stia pensando di modificare o di migliorare una squadra che, secondo me, fa bene a giocare così. Parliamo anche dell'Inter, seconda in classifica, riduce dal pareggio con l'Atalanta. Un Inter che si aspetta rinforzi. Ti aspetti più Vidal o Eriksen? Difficile dirlo perché l'Inter è in attesa in entrambi i casi e su entrambi i giocatori. Da una parte cominciamo da Arturo Vidal. Lo sappiamo che fino a qualche giorno fa era davvero lui l'unico e solo obiettivo dell'Inter per il centrocampo prima che uscisse l'idea concreta relativa ad Eriksen. Il fatto però che il Barcellona sia nel completo caos, si parla di Pocettino che possa prendere il posto di Valverde, fa essere il tutto bloccato perché Arturo Vidal non vuole restare nel Barcellona di Valverde. Non è che non vuole restare al Barcellona. Quindi è chiaro che l'Inter debba aspettare. Dall'altra parte c'è Christian Eriksen che secondo me sarebbe il preferito dalla società. Ma perché? Perché ha cinque anni meno rispetto a Vidal. Quindi sarebbe un investimento molto importante che potrebbe dare i frutti anche nei prossimi cinque anni. Per esempio è in scadenza di contratto con il Tottenham nel prossimo giugno, il 30 giugno 2020. E l'Inter cerca però di anticipare la concorrenza. Come? Andandola a prendere adesso. Sta aspettando che il giocatore dica sì. Se Eriksen dovesse dire sì, allora poi dovrebbe essere l'agente dello stesso danese ad andare dal Tottenham a dire il mio assistito vuole andare via. Per voi sicuramente è meglio prendere poco che niente perché se si dovesse liberare a zero non prenderebbe niente. Il Tottenham, dall'altra parte il presidente del Tottenham, Levi, che lo conosciamo molto bene per essere un osso duro per quel che riguarda il mercato, potrebbe anche rispondere no, io voglio solo 20 milioni di euro, cifra troppo alta per un giocatore che tra quattro mesi prende a zero e lì l'Inter sarebbe un po' con le mani legate. Quindi c'è attesa dall'una e dall'altra parte, Conte non è comunque molto contento di dover aspettare così tanto. Ecco, restando sull'Inter, dobbiamo dire che si tratta di un punto guadagnato quello di sabato scorso con l'Atalanta per come si era messa l'Atalanta che ha fallito anche un calcio di rigore, ha reclamato un penalty nel primo tempo per un fallo di Lautaro Martinez in area di rigore che non è stato neanche riscontrato dal VAR. Sì, poi c'è anche il dato del possesso palla, poi l'Inter ci ha già abituato, l'Inter di Conte in questa stagione a non fare del possesso palla uno dei punti di forza, no? Chiaramente Conte, l'idea di Conte, l'idea del gioco del calcio di Conte è un'altra rispetto a quella relativa al possesso palla però sicuramente l'Atalanta si è presentata all'appuntamento ancora una volta imponendo il proprio gioco l'ha fatto anche contro la capolista, tra virgolette, Inter. Francamente abbiamo poco da dire comunque in fronte di Conte perché poi alla fine la classifica è lì che parla però ha riscato, poi alla fine Muriel, no? Se metteva dentro quel rigore parlavamo sicuramente di altro non cambiano i voti, non sarebbe cambiato il voto per l'Inter, non sarebbe cambiato il voto per l'Atalanta forse sì, qualcosa è un mezzo voto in più dopo il giro di Boa però è lo storico recente che lo dice, l'Atalanta ha messo in difficoltà fondamentalmente tutte le squadre in Serie A e anche in Champions League, nella seconda parte del girone quindi ci si poteva aspettare, certo, un dominio per alcuni tratti della gara così netto dell'Atalanta nei confronti dell'Inter, in trasferta, francamente magari questo era più difficile, no? Poi c'è stato con le questioni arbitrali, sicuramente Gasperini e l'Atalanta non sono stati fortunati con le decisioni arbitrali, però insomma il campionato dell'Atalanta è fantastico anche senza questi piccoli errori Certo, poi ci torneremo sul campionato dell'Atalanta, adesso sulla lotta a Scudetto sentiamo il pensiero di Cesare Prandelli che ha parlato anche dell'infortunio, del grave infortunio a Zaniolo Ma fino a qualche domenica fa c'erano solo due squadre, ce ne sono tre La Lazio è secondo me una seria candidata perché è una rosa importante perché è una squadra che gioca assieme da qualche anno ha 4-5 giocatori sopra la media e quindi sono tre squadre che lotteranno fino alla fine Da persona che ama i giovani, che sa che vanno soprattutto aiutati nel momento di difficoltà che effetto gli ha fatto ieri l'infortunio a Zaniolo che rischia di perdere gli ormai? Quando sono questi infortuni è sempre un grande trauma per tutti perché vedi quel giocatore che sta esplodendo, che sta veramente dimostrando grandi valori grandi abilità, è un brutto infortunio ma purtroppo nel calcio capitano e sicuramente tornerà ancora più forte di prima a livello caratteriale Tante volte nei mesi dove c'è da soffrire le persone gli staranno vicine non solo i detti ai lavori ma anche la famiglia per sopportare e per quando sarà in ripresa rimetterà ancora più per altre Vedremo l'evolversi della situazione Zaniolo Restando invece sulla Lazio, ne abbiamo parlato spesso è una Lazio che tra l'altro deve recuperare anche una partita ci crede, è in forma e non è un caso se segna e vince negli ultimi minuti nei minuti di recupero Sì, a questo punto non può più essere un caso e non possiamo più parlare di fortuna anche se comunque l'episodio contro il Napoli è abbastanza fortunoso perché Ospina si è addormentato, è andato a prendere un caffè e di Lorenzo lo stesso poteva fare qualsiasi cosa tra le quali c'era anche quella di buttarsela dentro con tutta quella foga però è stata abbastanza fortunata la Lazio anche perché nel secondo tempo il Napoli probabilmente meritava qualcosa in più rispetto alla Lazio e poi invece alla fine ha vinto la squadra di Inzaghi però 10 vittorie consecutive in campionato più l'undicesima, la più importante, quella contro la Juventus in Supercoppa da quel primo tempo, da quell'intervallo della gara contro l'Atalanta con lo 0-3 all'Olimpico in favore della squadra di Gasperini è cambiato tutto in casa Lazio il pareggio per 3-3 e poi solo vittorie per quasi un girone e adesso è lì la Lazio, continua ad essere lì virtualmente è a meno 1 dall'Inter e a meno 3 dalla Juventus le prossime partite le giocherà tutte in casa perché ha 3 partite casalinghe tra i quali il recupero più il derby contro la Roma anche quello all'Olimpico quindi il popolo bianco celeste sarà l'alleato numero 1 per la Lazio che dovrà cercare di restare lì saranno fondamentali queste prossime 4 partite della Lazio partite semplici sulla carta e partite più difficili se la Lazio dovesse riuscire a far punteggio pieno anche in queste 4 partite allora davvero non possiamo più tenerla fuori dalla lotta allo scudetto anche se la classifica ce lo dice in questo momento continuiamo a dire sarà lotta a 2 però se la Lazio dovesse vincere anche le prossime 4 partite a quel punto lotterà per lo scudetto fino alla fine torniamo sull'Atalanta che merita una menzione speciale i segreti di questa squadra, di questa società ce li racconta Giancarlo Finardi ex calciatore bergamasco e attuale coordinatore del settore giovanile ma se di questa Atalanta il segreto è una cosa che ci portiamo dentro da anni io dico sempre avendo giocato col presidente Antonio Percassi negli anni 60-70 quando ricordiamo un po' i successi dell'Atalanta il settore giovanile diciamo sempre che anche noi in quegli anni abbiamo fatto due anni la finale primavera per cui vuol dire che già da allora l'Atalanta qualcosa aveva col settore giovanile con il nostro capitano che reggettano Sirea per cui i giocatori li ha sempre fatti e abbiamo continuato a fare non so ci sarà l'aria buona a Zingonia non so però è un marchio di fabbrica Qualcuno dice se non avessi avuto quest'anno la Champions probabilmente potrebbe anche puntare allo scudetto l'Atalanta No, adesso magari sei un po' esagerato però il fatto che l'Atalanta adesso vada a giocare con tutte le squadre diciamo alla pari è un segno sicuramente di una conquista importante da parte dell'Atalanta la mentalità che ha dato il mister che sicuramente adesso te la vai a giocare alla pari perché ho visto anche l'altra sera San Siro con l'Inter sicuramente è un po' quello che abbiamo fatto diciamo un po' in più in questi anni con Gasperini che adesso te la giochi con tutti dopo sicuramente le altre hanno qualcosa in più e arrivare davanti è difficile Da parte mia incuriosito dal ritorno di Caldara? Ma sicuramente forse era il posto giusto per farlo tornare a essere calciatore viene da due anni male è cresciuto lì ha fatto dieci anni da bambino alla prima squadra ha avuto questo espluato che l'ha portato prima alla Juve poi al Milan e adesso deve un po' ritrovarsi e penso che la famiglia Atalanta sia il posto migliore per farlo ritrovare e farlo ridiventare giocatore Tommaso Bonan volevo chiederti di Caldara ma dobbiamo andare di corsa quindi parliamo della lotta salvezza con una spalla ultima in classifica che però non si arrende e soprattutto se dovesse avere dal mercato dei rinforzi per l'attacco potrebbe giocarsela Sì, potrebbe giocarsela però la missione è veramente difficile perché comunque la classifica i punti che la separano dalle altre squadre anche i giocatori di poca esperienza che abbiamo visto anche nell'ultima gara contro la Fiorentina nella sconfitta di Firenze contro la Fiorentina non mi sembra che riescano a dare qualcosa in più mi sembra che Semplici abbia perso anche un po' di quello smalto che abbiamo visto nelle scorse stagioni sempre alla guida dei ferraresi c'è da dire che la Fiorentina avrebbe perso la gara di Firenze contro un'altra squadra perché la spalla alla fine poi non è riuscita a concretizzare le occasioni con qualche giocatore di esperienza in più dicevi bene Renzo probabilmente riuscirà a fare qualche cosa in più però la missione della spalla è veramente difficile Fiorentina davvero brutta quella che ieri ha conquistato tre punti c'era comunque la necessità della vittoria per il bel gioco occorrerà aspettare sentiamo che cosa pensa il club manager della Fiorentina Giancarlo Antonioni è stata una bella partita l'abbiamo vista tutti però i tre punti ci servivano e così abbiamo lasciato un po' dietro delle squadre non dico importanti però abbiamo acquisito una tranquillità maggiore cosa che anche ieri si è vista in campo qualche giocatore insomma la palla scottava sicuramente con il proseguo del campionato vedremo una Fiorentina un po' diversa forse anche un po' più rilassata con meno problemi ecco ci auguriamo che questo giro di ritorno sia diverso da quello che abbiamo fatto all'andata c'era molta tensione anche da parte dei giocatori quindi quel gol ha liberato un po' tutti chiaramente lui si è espresso in modo molto visibile però ha captato un po' tutto quello che stava succedendo in campo con un po' di timore quindi sicuramente mercoledì è una partita diversa si gioca in questi 90 minuti la qualificazione per noi molto importante come lo è per l'Atalanta vedremo una Fiorentina secondo me diversa da quella di ieri Antonioni, Finardi e Prandelli li abbiamo intervistati a margine della presentazione della scuola calcio intitolata a Mondonico che nascerà a Vaglia in Toscana vicino a Firenze tornando alla lotta salvezza la Sampdoria sembra aver preso la strada giusta con Ranieri che evidentemente è riuscito a plasmare a sua immagine e somiglianza questa squadra sì esatto dobbiamo fare ancora una volta i complimenti a Ranieri perché è arrivato che la situazione era veramente delicata che la squadra sembrava essere senza capo né coda che i giocatori non fossero giusti e invece alla fine è riuscito a tirar fuori dalle sabbie mobili la Samp che ancora chiaramente non è fuori dalla zona complicata della classifica però sta facendo molto bene ha lavorato molto bene Ranieri anche con Quagliarella seconda doppietta in campionato per il numero 27 Blu Cerchiato qualora Quagliarella dovesse tornare ad essere il Quagliarella che abbiamo visto negli ultimi anni per la Sampdoria sarebbe una passeggiata di salute raggiungere la salvezza Genoa invece in difficoltà è vero che il Verona è un avversario ostico per tutti però dopo il vantaggio iniziale della squadra di Nicola ci si aspettava che magari a meno un punto potesse portarlo a casa il Genoa sì, il Verona complimenti poi avremo modo di parlare anche nel corso delle prossime edizioni però il Genoa a differenza della Sampdoria ha tutto un altro tipo di rosa quindi dobbiamo dire che la Sampdoria avrebbe meritato sicuramente di più rispetto alla classifica di qualche settimana fa il Genoa a me non ha mai convinto ma anche in questo mercato di gennaio quei giocatori che sono arrivati non hanno portato almeno fino a questo momento quel qualcosa in più diciamo non sono giocatori più forti degli attuali titolari quindi mi sembra ci sia un po' di confusione anche su chi deve giocare su chi è titolare e su chi non è titolare e secondo me anche per il Genoa seppur una posizione classifica leggermente migliore rispetto alla SPAL la vedo veramente dura perché non mi sembra ci sia un disegno tattico ben preciso In 15 secondi Nicola non ti ha convinto? Non mi ha convinto perché a parte ha cambiato tantissimo nelle panchine che ha fatto fino adesso al Genoa ma poi soprattutto al momento del gol del 2-1 dopo aver subito il gol del 2-1 ha tolto Sanabria, uno dei migliori in campo per inserire Agudelo togliendo tanto all'attacco e da quel momento in poi il Genoa non è più riuscito ad essere pericoloso Sanabria che aveva realizzato anche un gran gol nel primo tempo il gol del momentaneo vantaggio del Genoa siamo in chiusura grazie a Lorenzo Di Benedetto grazie a Tommaso Bonan ci ritroviamo come sempre domani grazie a tutti buona serata